Chi è? Che spettacolo? A vita non gli piace questa, non c'è verso! Non gli piace, non gli piace, non gli piace! Cavallato! Spettacolo! 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 Opa! Coppa, manchi un pezzetto, coppa, manca Francesco. Nooo, ha spostato tutti i tronchi, ha spostato tutti i tronchi! Sì! Porca loca! Poggia! Passa lì, passati lì! Passa lì! Devi tirarli via! Come fai? Buttali qua! Buttali qua e basta! Ti hanno rotti i coglioni! Ogni volta che vai lì cazzo te li spara fuori! Eh sì sì! Adesso passa Francesco, sai dove lo trovi il sasso? Allora, vai! Ahhhh! Vai! 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 Nacho, vai! Univo in periamento e guarda un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti.